Buongiorno ragazzi, nuovo episodio di Resident Evil 5, siamo su PS4 e continuiamo da dove ci eravamo farmati l'ultima volta. Avevamo trovato il computer, avevamo mandato le informazioni prese dalla squadra. Abbiamo già affrontato un boss, abbiamo fatto un po' di cosucce. Oserei dire che siamo pronti a continuare la nostra partita. Siamo con Chris e siamo al magazzino. Iniziamo la partita e via. Allora, come ci organizziamo? Allora, organizza. Ok. Ok. A posto così. Quindi questo è ok, quello è ok, quella c'ha le bombe che non usa mai tra l'altro. In inventario abbiamo ancora una pistola e due bombolette spray che non useremo. Più un paio di oggettini. Ok ragazzi, allora. Allora. Da acquistare abbiamo qualcosa? Uno spray, un giubbotto. Minchia il giubbotto quanto costa. Solo questo? Va bene. Allora direi che siamo pronti ragazzi, usciamo. e via. Ok. Allora. Benissimo. Il motore non ingrana. Perché lui da fuori ha già scoperto che il motore non ingrana. Va bene. Ok. Ok. C'è più niente da prendere? E se io salgo qua sopra E se io salgo qua sopra Qualcosa per me? Attenzione E che cazzo Ok Un bel baule con dell'oro dentro Occhio Tanto oro Ricchezza a volontà Lì ci sono delle armi Vabbè Prendi tu E prendi tu Eh? E poi dite che non le voglio bene Leggiamo sto documento Ah ok Cioè c'è ancora roba del tutorial Vi rendete conto? Eh l'ho capito Adesso però ce lo dici Ecco te l'ha Fantastico Benissimo a questo punto Osarei dire Andiamo Tanto abbiamo fatto praticamente Qualsiasi cosa dobbiamo fare E siamo all'aperto ragazzi Ma che bel posto ragazzi Pieno di vita Qua secondo me ci saranno dei cani Ahi 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 Ehi! Ma guarda un po' Ma pensa a te Adesso dobbiamo solamente vedere Come fare a salire da lì E prendere quegli oggetti Che a me piacciono quegli oggetti Ah che cazzo Roba Ah lì c'è la scala E poi? Ah lì Uh uh Aia Vieni un po' qua zoccola Ma guarda un po' Tu tu vieni qua Eh allora vediamo un po' Come non glielo posso consegnare perché? Ah perché è andata lontano sta puttana non viene da me Sta merda Eccolo qua E' assorreta Uh Uh Far raccogliere solo a me E' qui? Bubulezza Ma che cazzo Perché è andata giù sta scema? Uh oh Cane di merda Uff Cane di merda Ancora Ancora Tiena Ecco c'è qua Adesso andiamo di sopra Perché noi esploriamo Perché noi esploriamo Esploriamo ragazzi Si esplora Vabbè che si esplora Vabbè che si esplora Ma non si guarda a nessuna parte Vabbè Vabbè Ok ragazzi Abbiamo aperto un bel cancello Qua c'è il checkpoint Qua c'è un ponte ragazzi eh Come tutti sappiamo Queste cose solitamente finiscono a schifiu Solitamente Eccola Uff E poi Ma no Eh che cazzo Yeehaw Ebbè Yebbeh ragazzi Yebbeh You grab it Roger Take it Ok Hmm Come on You grab it Oh Gli sto anche regalando delle cose eh Cioè Non è che sono egoista Che prendo tutto io Eh che cazzo Come è giusto Siamo in due E ci dividiamo un pochino le cose Vabbè Che a lei lasci ste cagate E un altro pair di maniche Comunque Un altro Chico point Che a lei lasci Che a lei lasci Che a lei lasci Vabbè Che palle sti cani Che palle Dire che sono pallosi E dire poco Basta Niente Col cazzo Hola E prendilo Ok 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 sto cazzo Ma vedi te Ok ragazzi Ok Allora Qui ha salvato E noi ci salutiamo Al prossimo episodio ragazzi Ciao ciao